Se osserviamo la base di un cervello che è stato appena prelevato da un cervello, si può in effetti vedere ben poco del cervello. Tuttavia, come ho dimostrato nella mia lezione della settimana scorsa... Io avrei una domanda, dottor. Mi do allo spinale. Il mio nome si pronuncia... Coglione. Il signor, figlio di puttana, con cui non ho mai lavorato e a cui non ho dato precedenti istruzioni, ha gentilmente offerto i suoi istruzioni per la dimostrazione di questo pomeriggio. Doctor Frankenstein. Frankenstein. Vuol prendermi in giro? Sì! Allora dice anche Friedreich. Che carino. Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella... Un assistente di laboratorio. Cos'è stato? Oh, certamente. E Rosenthal. Griscate. Lupo lula. Lupo unula. E castello unuli. Lupo unula. Lupo lula. Uli. Ma come diavolo parli? Mai visti due così? Oh, grazie. Coglione. Non c'è di che. Io sono... Un agnellino! Ho usato con l'atti? Sì! Può... Fare! Ti ho distanza il circuito! No! Quello è meglio di no! Chiudi la mia testa! Penso di aver capito tutto ora! Se sei cambiato! Sì! Puttana! 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 Sto lavorando! 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 Ch Hannicks! Funno di fare! Buongiorno! Adesso! Grazie a tutti.